. 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 , . . . . . Zaigris Kaunas ostia Anadolu Efez Istanbul per quincere con il vinto, il miglior giusto nel gruppo C Kaunas, guidato da Marcos Popovic, ha avuto una avvantaggio di 29-19 nella seconda quarta Anadolu Efez riduce la scuola con Jordan Farmas guidando Leia Era 35-30, ma Ibrahim Jabber aiuta Zaigris a prendere controllo del gioco nel terzo periodo E Paulius Liancunas ha avuto 12 punti nel 23-7 break, guidando la sua squadra a una ganza di 71-53 A ganza di Anadolu Efez E7 Emporio Armani Milan fuori a Athens per faceare l'Olympiakos e ha avuto la squadra nel primo periodo grazie all'efforto di Keith Lamford Poi nella seconda, la squadra greca riuscita e Kyle Hines viva il gioco a 27 Nella seconda quarta, l'Olympiakos ha cercato di rinforzare, guidato da Josh Powell Ma per la finale finale, i visitori avvicinarono la squadra con il 2-handed dunk da Ioannis Borussis, ben assistito da Malik Hearthstone Costas Papanicolaou è il 3-pointer per arrivare ancora più alto Poi l'Olympiakos ha avuto 82-81 Poi l'Olympiakos ha avuto 86-81